c'è un odorino tra questi che adesso mettiamo nel frigo però metterli dentro dove erano prima e allora metti così e poi tutte queste così qua questo sono curioso un casino di taralli della puglia tutta roba che viene dal sud ovviamente verso amalfi averno eccetera però belli questi questi regali questo morbidissimo questo pacco enorme almeno che è andata prima a lobby sì 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.